Illustraci la storia del coperto, grazie. No, allora, scusa. No, non mi prendi il più scemo. Io non ti prendo il più scemo. Come ci si divide il menù? Facciamo, scusa. No, ancora qua è lunga la cosa. No, no, prende l'acqua. Vabbè, da bere, non dobbiamo prendere l'acqua. Allora, come ci si divide il menù? Perché non dividessi il coperto? Guarda che spreco di risorse. Ci sono tre forchette. Un dovagliolo larghissimo. Che ti asciughi tutto. Due cortelli, una bella testa e due bicchieri. Tra l'altro io che sono più alto mi prendi questo e tu che sei cioccutto ti prendi questo. Certo, giustamente, no? Ci faccio fiori. Allora, se facciamo i turni per la sedia... Eh. Ma lo senti? Mi spettiamo coperto Neuroluno, ma perché no? Vabbè. Ma non lo potremmo spattolo coperto Neuroluno. Ho comprato a persona. Allora, noi riportiamo e mangiamo un po' allora io ho lo zainetto, se ci mettiamo le cose nello zainetto, usciamo e non paghiamo il coperto. Vabbè, ma comunque a talere un menù secondo ti piace? O vuoi o primo? Che vuoi? Lo secondo? Lo secondo? Ho seconda, o primo. Ma come reale le patatine? Eh, ma non è così come reale le patatine. Non ne ho mai visto. Sono scritto nei secondi. Sì, ma non voglio prendere un menù. Io mi prendo il menù D. Mi prendo il menù D. Vabbè, arrosto misto di carne. Però senza tutti questi problemi, no? Che problemi c'è altro? No, senza tutti questi paranoia che si faccia, mille frucchetti... Vabbè, comunque ci vogliamo mangiare, perché io non so le cose che nessun anno ne fanno mangiare. Allora, ci sono le grigliate miste di carne, l'arrosto misto di carne che io...